Per sentirmi meglio potrei fare un bel pullover per qualcuno Ma quel qualcuno non so bene chi è Questo pulloverino non può farlo per uno come Per esempio chissà uno vedrà che lo trova Qualche volta voglia di giocare mezz'ora a tennis con qualcuno Ma quel qualcuno non so bene chi è Questo incontro di tennis non può farlo con uno come Come? Beh, per esempio Sì Uno vedrà che lo trova un boyfriend Un compagno di weekend Un ragazzo allegro Uno che lo pensi già come me Vale a dire un tipo come me Amo la pittura potrei fare un bel ritratto di qualcuno Ma quel qualcuno non so bene chi è Penso che quel qualcuno già c'è Dove si trova? Sta qui Qui? Qui vicino Chi è? Dica Ecco Mi dite perché Lei cerca qualcuno Lei cerca qualcuno E non pensa a me E non pensa a me Allora Da Di Grazie.